Dopo di che ci sono diversi investimenti sui quali stiamo cercando di lavorare, penso al tema dei semiconduttori, caso che lei citava, insomma il caso di Intel, e sicuramente dare dei segnali. Come noi da una parte abbiamo dato un segnale di attenzione al mondo della produzione, uno dei messaggi che per me era importante dare in questo anno e che abbiamo dato è che non c'è un governo ostile a chi produce, anzi lei ricorderà non disturbare chi vuole fare, è stato uno dei miei slogan, io la penso davvero così, penso che ci debba essere uno Stato che controlla ma non uno Stato oppressivo, penso che debba esserci uno Stato che si mette al fianco di chi produce, di chi investe, di chi crea ricchezza e di chi crea posti di lavoro, non è stato sempre così, perché noi spesso abbiamo dato l'immagine di essere invece uno Stato forte con i deboli, deboli con i forti, ostile delle volte, a chi creava ricchezza, chi produceva posti di lavoro, non è la mia mentalità, non è la nostra mentalità, credo che questo segnale sia arrivato ed è già un elemento interessante e penso che alcuni segnali che arrivano anche dall'economia poi rispondano a questo pur nella condizione economica difficile nella quale ci troviamo, però sicuramente c'è di più da fare su questo e penso che ripeto, burocrazia e giustizia siano due di quelle cose sulle quali bisogna avere il coraggio e io vorrei farlo quest'anno di mettere le mani, di riformare in maniera seria per dare il segnale anche qui che l'Italia non vuole più essere fanalino di coda degli investimenti esteri.